adoro i pigiama party si allora cosa facciamo non lo so ma come non lo sai detto che eri piena di idee si hai ragione ecco il quaderno delle idee guerra di cucini è colpito l'occhio oh scusa tranquilla a scuola ho appena studiato i barbari e quindi occhio per occhio ciao amo ciao pronta per il party di stasera di certo amo sarà il party dell'anno jessica sì che c'è ho rubato gli ingredienti dalla cucina così possiamo fare i biscotti di nascosto ma qua nella tenda si qua nella tenda scemo ho detto di nascosto mica li possiamo fare davanti alla mamma ok va bene allora abbiamo la farina lo zucchero facciamo i cookies con i pezzetti di cioccolato non so se ce li abbiamo le cosette di cioccolato ma io li volevo sai di non rompere le palle facciamo i biscotti così bambine cosa state combinando presto 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 ritirata nascondiamo tutto allora che facciamo stasera ordiniamo una pizza ordiniamo una pizza sì però aspetta io sono a dieta e la vorrei leggera va bene allora ordini tu salve noi vorremmo com'è che la pizza con le patatine una pizza con le patatine e una pizza al prosciutto senza formaggio sugo olio e prosciutto ma scusa ma allora la pizza dov'è allora adesso giochiamo a dirci segreti va bene ok chi ti piace non te lo dico ma sei cretina dovevamo dirci segreti no ok allora facciamo un gioco dammi la tua mano ok ti piace la banana anche quella americana dimmi tre nomi di ragazzi che ti piacciono eh dimmi tre nomi di ragazzi che ti piacciono va bene va bene va bene filippo albert e guandissimo chi butti nel cestino ma se mi piacciono non ne butto nessuno chi butti nel cestino guandissimo nel letto delle spine ma si fa male nel letto delle spine filippo nel letto delle rose albert ti piace albert ti piace albert accidenti ora tocca a te dimmi tre nomi di ragazzi che ti piacciono eren edrian e chan noir ma sono cartoni animati e due di loro sono la stessa persona e allora ok ti devo rivelare una cosa dai dimmi ma non dirla a nessuno vai forse e dico forse mi piace il ragazzo della n quello che ti ha guardato in corridoio quello che mi ha guardato in corridoio lo sapevo aspetta fammelo dire ho detto che un segreto scusa vabbè dai scrivigli no ma sei scema scrivigli no o gli iscrivi o prendo il tuo telefono e scrivo uno dei tuoi ex ok va bene gli scrivo ma cosa gli dico chiedigli ma anche tu sei in quinta ok dai va bene ma ha senso vai ok gli ho scritto mi ha risposto che dice che dice sì e poi basta ma come cazpita si risponde a uno che ti scrive sì e basta non lo so gli faccio schifo aspetta aspetta ha mandato un altro messaggio ha aggiunto te invece adoro gli piaci sono una principessa e lei ma cosa ti sei fatta in faccia mi sono truccata con i pennarelli si adesso ci vorrà una vita per farli albererio adesso invece vado pazzo per i prodotti di freshly cosmetics qui nel video sto utilizzando il radiant glow primer serum che per utilizzare al meglio dovete shakerare shakerare e poi lo applicate dopo aver deterso il viso lo mettete sulle guance sulla fronte sul mento e sul nasino massaggiate bene e poi aspettate 5 minuti in modo che si assorba bene prima di applicare correttore e fondotinta guarda che bel visino tenero che ho dopodiché utilizzo il satiskin cream foundation io lo applico direttamente con le mani e sono mega soddisfatta perchè super coprente ma anche super leggero e come non averlo poi passo al correttore vitamin fix sono un po' strana di solito bisognerebbe mettere prima il correttore e poi il fondotinta ma io ho sempre fatto in questo modo e mi sono sempre trovata benissimo sono un po' strana il prossimo step è il natural glowy highlighter lo potete applicare mattina e sera e resterà per tutta quanta la giornata ha una lunga durata veramente impeccabile io l'ho messo sulle guanciotte sul visino insomma potete metterlo un po' dove preferite e poi lo andate a massaggiare con le dita così come sto facendo io guardate come sono bella luminosa ci tenevo a dirvi che sono felicissima di utilizzare Freshly perchè è una linea di make up naturale, vegana e sostenibile che si prende cura della nostra pelle e del nostro pianeta se siete interessati vi lascio qua sotto in descrizione il link per acquistare i prodotti e potete utilizzare il codice sconto ELEIT per avere un coupon del 25% ecco qui il mio make up naturale finito fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto in un commento caro diario, non puoi capire cosa è successo oggi, un vero disastro Gianfilippo Coso si è fidanzato con la popolare della classe lo so, non potevo crederci nemmeno io però nessuno in classe sa che mi piace potevo dirlo solo a te mi raccomando diario, non dirlo a nessuno forse lo sa Jessica, speriamo non l'abbia detto a tutti comunque non ti preoccupare diario perchè Gianfilippo Coso sarà mio creerò una pozione per uccidere la popolare della classe mi sono lasciata con il mio fidanzato ma mi manca c'è solo un modo per farglielo capire cioè fai delle storie depresse su Instagram ok mentre piango ma no, non così, scema uno in cui si vede che sei gnocca così capisce cosa si è perso ok, così perfetto, mettiti un po' così cosa... ok ok ottimo e che canzone metto? beh, metti thank you next via Ariana Grande così capisce che non ci pensi più e che per te non vale nulla ma per me vale ma lui non lo deve sapere cretina da grande vorrei fare l'astronauta il medico o l'avvocato allora con questi voti a scuola non penso di poter farlo astronauta sì ma è colpa della prof che non sa spiegare ho un'idea cosa? sai cosa dovremmo fare? no ci apriamo un profilo di TikTok facciamo qualche balletto stupido e diventiamo famose ma sei un genio ma dici che ci prendono in una delle house? ma sì basta che ti limoni un tizio nella house e sei dentro tutte le pagine di gossip parleranno di me tutti ti ameranno solo perché sai fare tre mosse in croce io so già fare questa un sogno che diventa realtà eh già ciao a tutti ragazzi io sono Nora e questa era Bambini vs Adolescenti hai pigiama a parti più o meno sì spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se vi è piaciuto con un bel vi piace non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao